Ciao ragazzi, bene allora la riflessione che vorrei fare oggi con voi è questa, ma a noi il cane ci serve oppure lo amiamo? Perché sono nato 60 anni fa circa in una casa dove c'erano già cani, non sono stato uno di quei bambini che doveva chiedere ai genitori potete comprare o potete adottare un cane per me, no? Assolutamente, mio papà faceva il cacciatore, noi avevamo cani da caccia e mi ricordo fin dai primi anni, me li ricordo ancora, c'erano cani a casa mia, ma specialmente la mia nonna paterna era stata una pastora e anche in quel momento quando ero piccolo aveva cani, ma specialmente mio nonno materno era stato un cacciatore di pelli, non l'avevo conosciuto ma in compenso ho conosciuto mia nonna e qualche cane tra mia nonna e mia zia è sempre circolato a casa nostra. Vi dico la verità, non ho mai sentito a dire una sola volta noi amiamo il cane. Mi ricordo che allora si cercava di fare appello al rispetto che si doveva avere nei confronti dei cani, si dividevano le persone di buon senso che avevano rispetto per questo animale e le persone direi sciagurate che veramente consideravano il cane come un semplice oggetto. Mi ricordo di cacciatori che alla fine del periodo di caccia sparavano al cane perché non si era comportato bene, non serviva. Stessa cosa sentivo contadini, pastori che il cane aveva creato un problema, l'avevano impiccato. Piuttosto cani avevano mangiato le galline, l'avevano chiuso di un sacco e l'avevano ucciso a bastonate. Quindi è ovvio che eravamo a un livello di civiltà in generale molto inferiore a questo, ma non era finita la guerra da molto, specialmente i miei nonni avevano fatto tutte le guerre possibili e immaginabili. I miei genitori erano cresciuti, si erano innamorati, avevano fatto tutte le loro cose da giovane durante i bombardamenti. Quindi avevano visto non so quante persone morire, famiglie distrutte, tutto si pensava tranne ai cani. Non per nulla già allora c'erano dei detti tipo mi tratta come un cane, solo come un cane e tante altre cose. Mi sento sto male come un cane, perché normalmente questo animale veniva tenuto solo per ciò che poteva servire. Però vi posso garantire, almeno nella mia famiglia, che potrebbe sembrare ridicolo. Quanto rispetto mio papà aveva per i nostri cani nonostante fosse un cacciatore e quindi già allora non è che cacciava per necessità. Io sono nipote di cacciatori per necessità, ma lui per quanto mi ricordo io la caccia era un hobby. Di conseguenza se da un lato andava per divertimento, per passione, uccidere gli animali, mi ricordo questo rispetto esemplare che aveva nei confronti dei suoi cani. E io ero un ragazzino, eravamo più che ragazzino un bambino e non conoscevamo tanto rispetto degli animali. A volte catturavamo ogni tipo di uccello, piuttosto rettili, persino le bisce, eccetera. E mio padre invocava sempre il diritto che avevano gli animali a vivere da animali e quindi mi dissuadeva da far questo. Era difficile con me perché ero figlio unico e avevo questa passione sfrenata di vivere con gli animali. Se io dovessi pensare allora c'erano cani randaggi, tanti, in questi paesi di campagna come quelli in cui io vivevo. E mio padre più o meno i cani li teneva nel cortile. Mi ricordo quando c'erano le femmine in calore, cercavamo i cani, diceva ma mi sa che sia e nominava quella famiglia dove il cane faceva la posta fuori del giardino perché loro tenevano chiusa la femmina e lui se la voleva montare. E la stessa cosa accadeva, magari li liberavano in campagna, sentivano una femmina in calore, non c'era modo, poi lo cercavano magari dei giorni, riandavano tutte le sere fin quando trovano il cane. Non abbiamo mai perso un cane, mai nessuno si è impossessato del cane. Non c'erano i telefoni, ogni tanto arrivava qualcuno in bicicletta, c'erano già ovviamente le prime automobili, moto eccetera, veniva a dire guarda che ho visto quel cane là, l'hanno legato a una catena, vattelo a prendere. Mio padre partiva e se lo andava a prendere. Allora oggi sono cambiati tanti i tempi, non c'è più uno che dice io non amo un cane, anzi tante persone dicono addirittura, scrivono ovunque, amo più il cane di me stesso, amo più il cane di un qualsiasi essere vivente, amo più i cani degli uomini, nessun uomo è come un cane, gli uomini tradiscono i cani, no, quindi di questa retorica se ne fa abizzefe. Però se io confronto il livello di vita che facevano i cani di allora, e mi viene in mente anche il cane di mio suocero, che girovagava per il paese, per questa cittadina di campagna, ogni tanto arrivava l'ora di caccia e non si sapeva bene dove andarlo a recuperare. Poi non mi ricordo un maschio che non coprisse una femmina, così come non mi ricordo che non ci fossero cucciolate ovunque, non abbiamo mai ucciso i cuccioli, si trovava sempre una destinazione, tante volte le femmine non partorivano nemmeno vicino le case, andavano a partorire specialmente l'estate nei boschi, nei prati, nei posti più impensati, succedevano cose che vedo ancora piacevolmente a succedere in quei paesi dove vado a studiare i cani che possono ancora vivere allo stato randaggio. Nessuno amava i cani, ma i cani togliendo questi casi sporadici, ma erano già condannati a loro, di quelle persone che riversavano la loro frustrazione sul cane, lo tenevano per forza legato a una catena corta, lo picchiavano a volte, oppure c'erano quelle persone che erano, non so, noi allora li chiamavamo i barboni, oggi vengono chiamati omeles, quelle persone senza casa che non avevano nient'altro di un cane, questo povero cane lo tenevano sempre legato perché lui se ne voleva andare, magari spingevano un carretto, spingevano una bicicletta e questo cane si vedeva magari doverlo seguire a tutti i costi e allora ovviamente non c'era la protezione animale, la polizia non interveniva, non succedeva nulla e quindi erano quelle situazioni che facevano pena, ma mi ricordo benissimo persone che intervenivano, non è che le persone fossero indifferenti, c'era questo detto di dire povera bestia, lasciala stare. Ecco proprio riferito a questo, sapete quante volte io oggi vedo, ma centinaia, migliaia di volte, persone che tengono legato a se stesso un cane, se lo sono adottato, poi hanno sempre la scusante, l'ho preso in canile, stava peggio in canile che con me, che io quello vorrei verificarlo nei dettagli, oppure il cane è il mio compagno di vita, siamo un binomio, eccetera, mi verrebbe da dire povera bestia, lascialo stare, quei cani dove gli tirano la pallina in modo compulsivo, lui è già quasi impazzito, tirano, li riportano, questi ritirano, riportano il cane, non si rende più conto che ha un mondo attorno a lui da cane, l'hanno condizionato talmente che sta tutto il giorno con la pallina in bocca ed è lì che aspetta che il padrone gli dia un comando, immaginatevi cosa io posso pensare ricordandomi allora come erano i cani, studiandoli tuttora nei paesi dove i cani vivono fortunatamente ancora da animali, poi confrontarli con questi rapporti che i cani sono, fra virgolette, costretti, perché è ovvio che a fargli fare questa vita non si prendono cani forti di carattere indipendenti, si sono selezionati delle razze talmente indipendenti dall'uomo, incapaci di vivere in modo autonomo e quindi cosa ordina il padrone e obbligo eseguire e questi sono i cani che danno e creano più soddisfazione al padrone che dice io amo alla follia il mio cane. Allora quello che vi voglio dire è che la mia cinofilia naturale non è un'invenzione strampalata, non è che per cinofilia naturale io ho voluto inventare qualcosa di particolare, semplicemente con tanta esperienza acquisita in tutto il mondo ho cercato sempre di studiare che cosa secondo me vorrebbe e vuole il cane dal suo padrone, da noi, ad esempio io lavoro con i cani, di conseguenza io sono uno di quelli che i cani innanzitutto mi servono e li vendo a famiglie alle quali i cani li servono, ma li insegno, come credo di aver imparato io, ad avere questo grande rispetto per l'animale. Il discorso di amore non so se questo sia amore, sinceramente non lo so, non so neanche bene il significato di cosa voglia dire amare le persone, invece oggi incontro persone che dicono amo follemente il cane ma se tu li fai un piccolo sgarbo ti vogliono ammazzare perché hanno deciso che il cane è meritevole d'amore però è il loro prigioniero mentre gli uomini vanno condannati tutti. Quindi vi volevo sollecitare un po' queste riflessioni perché la domenica mi dedico a questo, non alla cinofilia tra virgolette finalizzata ma alla cinofilia di riflessione. Nel frattempo vi volevo ricordare che lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 ci sarà questo corso online proprio di cinofilia naturale e di recupero cani aggressivi. La mia cinofilia naturale è semplicemente questo, insegnare alle persone a convivere col cane e mettere prima le esigenze del cane dei nostri capricci, delle nostre finte esigenze, di ciò che ci poniamo a volte di obiettivo alle spese di questo animale che tanti anni fa avrebbero detto povera bestia e invece molti di questi proprietari sono convinti di essere dei proprietari esemplari e un esempio da dover seguire. Bene, vi ho allegato anche oggi tutte le condizioni per aderire a questo corso, non è aperto a tutti, bisogna essere proprietario almeno di due dei miei videocorsi, bisogna avere una base per seguire questo corso online perché poi se si vuole si può diventare un educatore di cinofilia naturale che è un operatore cinofilo molto importante oggi e anche di recupero cani aggressivi che è un'altra esigenza sempre più sentita all'interno delle famiglie fra i proprietari cani perché ovvio che tenendoli in modo sempre più naturale, fregandosene dei loro istinti primari poi i cani si ribellano. Bene, vi ringrazio tanto anche oggi per avermi seguito, vi auguro a tutti buona giornata e a risentirci. A presto!